10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 10, 10 11, 10 Sì, è vero. Fila di due, fila di due, così facili diamo, sai quanto non faccio, vai, tanto il passo c'è, due giorni ci fa, vai Gigio vai, la natura è cuota, stai a 10 km, ma c'è, due giorni ci fa, vai, vais, vai, vai, ma c'è, una volta il tasca, Grazie a tutti. 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 Mano. Vai giro. Vai vai. Vai. Vai vai. 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 Vai sul lato ancora. Vai. 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 Oggi. Grazie a tutti. 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 Aspetta. Aspetta. Grazie a tutti. Oh. Grazie. Alla. Oh. Alla. Oh. 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 Alla. Oh. 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 un po' è 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 un po' Buon arz Buon arz di gara, facciamolo di gruppo giro quasi caduto dopo che c'era Qua ci fa la sprint Qua è arrivato? Siamo a 8 km No, è 9 km 8 km Non, è bello Grazie a tutti. Grazie a tutti.